Saremo tra i primi comuni in Italia che hanno deciso di sviluppare, come già da qualche anno abbiamo avviato, alcune iniziative di marketing territoriale che consentano di guardare anche oltre quello che è il segmento turistico che ha sempre caratterizzato il nostro territorio e quindi di valorizzare quelle che sono le risorse che la natura ci offre e ci consente di fruire proprio per poter utilizzare come invito ai nostri ospiti per conoscere una San Vito che può essere appunto quella dell'outdoor, degli sport o comunque della vita all'aria aperta. Lo abbiamo visto recentemente durante anche le ultime trasmissioni, soprattutto quella di Federico Quaranta, sono delle iniziative che ci consentono appunto di far conoscere San Vitolo Capo, Magari e Castelluzzo non più solo come destinazioni balneari. Per questo il comune di San Vitolo Capo ha deciso di avviare un'ulteriore iniziativa di essere protagonista, il primo e ci auguriamo che ovviamente possa essere apripista per altri enti ed altre imprese, appunto di un'iniziativa di una start-up che oggi ci consente e consente l'amministrazione di garantire agli operatori turistici di San Vitolo Capo di essere presenti all'interno di una piattaforma innovativa che ci consentirà appunto di raggiungere direttamente gli utenti che appunto desideriamo contattare attraverso Google avendo un rapporto diretto appunto con Casa Madre che ci consenta di sviluppare ulteriormente quello che è il marketing turistico che vogliamo portare avanti. Ma ormai i dati mondiali, nazionali, dicono che almeno l'85% delle decisioni di vacanza avvengono su Google. Avvengono su Google però da chi si fa trovare su Google? Perché se nel momento della ricerca o la singola struttura o la località non sono presenti vengono bypassate. Per questo l'assessore Ciulla mi ha veramente sorpreso perché è la proposta di concentrare le risorse dove veramente avvengono le scelte e quindi avere la possibilità di dare risultati concreti agli operatori perché a quel punto verrà un pubblico segmentato che ha un interesse o una propensione a venire nelle nostre zone ed è lì che bisogna farsi trovare nel momento in cui viene maturata la decisione di vacanza. Tra l'altro mi preme a sottolineare che il Comune avrà proprio un rapporto diretto, un proprio account, quindi non affiderà a me o a chiunque altro un budget da gestire. Le fatture arriveranno direttamente da Google al Comune e gli operatori turistici del Comune avranno servizi gratuiti pagati dal Comune all'interno del portale di destinazione villagiosicilia.eu. Quindi una sinergia pubblico-privato che è stata anche discussa per mesi con le associazioni proprio per andare incontro alle richieste dei singoli operatori. Allora diciamo che è un mix di campagne e la parte diciamo così proprio a pagamento cioè le inserzioni sponsorizzate di Google suppongo garantiranno almeno 150.000 visitatori. Poi abbiamo fatto un grosso lavoro di posizionamento sui motori di ricerca dove risultati ci vuole qualche mese per vederli e questo è normalissimo e qualcosa faremo a livello di social. Quindi io ritengo, non voglio dare numeri, ma ritengo un obiettivo minimo i 200.000 visitatori con una precisazione importante. Non conta quanti visitatori fai, conta quanti visitatori fai in linea col tuo target. Perché io potrei avere 200.000 visitatori casuali. No, quelli saranno visitatori che vogliono venire in queste zone e questa è la parte importante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.